Non rimasti, ma ti fa male. Non mi pare che non mi pare. Non mi pare che non mi pare. Non mi pare. Ok stop. Bene dove siete? Adesso con la pallina che avete in mano fate questo movimento con le mani. Invece con la pallina che avete per terra passate da una suola all'altra. Ok? Un po' semplice. Senza guardare la pallina. La fermi due anni. Così. Senza. Devi sentirla. Devi sentirla. Ce l'hai intanto? Perfetto. Devi sentirla. Ok?